Allora, oggi ci occuperemo di Arthur Schopenhauer, la lezione destinata in modo particolare agli studenti del liceo, quindi avrà carattere generale, non ci soffermeremo su brani delle opere di Schopenhauer, ma tratteremo le tematiche considerate più importanti in maniera generale, ma cercando comunque di dare un'idea abbastanza precisa della filosofia di questo autore. Cominciamo intanto con il dire che Schopenhauer ha 30 anni, in termine di scrivere, la sua opera più importante, cioè Il mondo come volontà e rappresentazione. Il titolo di quest'opera contiene già gli elementi più importanti del suo pensiero, e cioè il concetto di mondo che in qualche modo si lega al concetto da una parte di rappresentazione, vorstellung, e al concetto di volontà, dove questi due termini, la rappresentazione e la volontà, sono, diciamo così, legati insieme da un rapporto di causa-effetto, nel senso che la rappresentazione, il mondo come rappresentazione, quindi i fenomeni che noi ci troviamo ad osservare, a valutare, a vedere, in cui noi stessi siamo, i fenomeni dipendono in maniera esclusiva da questo fondamento che Schopenhauer chiama volontà, e vedremo non ha niente a che fare con la volontà umana, se non in un senso analogico. Dunque, da dove prende le mosse la filosofia di Schopenhauer? Prende le mosse dal pensiero di Immanuel Kant, con delle venature anche di filosofia orientale. Queste due componenti, quindi, costituiscono un po' le componenti principali del pensiero del filosofo tedesco, da una parte la filosofia di Kant e dall'altra alcune suggestioni del pensiero orientale, indiano in modo particolare. Dicevamo che la filosofia di Schopenhauer prende le mosse da Kant, e da che cosa in particolare? Prende le mosse dal concetto di fenomeno. Anche per Schopenhauer vi è una realtà fenomenica, come in Kant, che si dà quindi alla coscienza umana, ciò che noi vediamo, il mondo così come noi lo vediamo, è per Kant un fenomeno, e lo è anche per Schopenhauer. Tuttavia, come per Kant, dietro al fenomeno vi è la cosa in sé, cioè il fenomeno è strettamente legato ad una realtà indipendente dal soggetto umano che la percepisce. questa realtà, che gli chiama appunto cosa in sé, che è un X inconoscibile, che tuttavia è indispensabile per spiegare il fenomeno così come si manifesta a noi, alla coscienza umana. Anche per Schopenhauer vale la stessa cosa, con la differenza che Schopenhauer ritiene che la cosa in sé sia conoscibile, non sia un concetto limite del quale noi non possiamo dire nulla, che non può essere in nessun modo conosciuta perché per Kant costituisce la condizione, una delle condizioni della conoscenza dei fenomeni, ma Schopenhauer ritiene invece che questa cosa in sé, questo fondamento della realtà fenomenica, questa causa originaria, possiamo dire, della realtà fenomenica, anche se non è proprio esatto usare la parola causa, ebbene questa volontà, questo fondamento, questa cosa in sé, Schopenhauer ritiene che si possa conoscere, Schopenhauer ritiene di identificarla nella volontà universale, in questa forza primordiale, originaria, che appunto darebbe luogo a tutte le cose, a tutta la realtà fenomenica, compresi gli esseri viventi, gli esseri umani, nei quali appunto la consapevolezza, la coscienza, è talmente sviluppata che l'essere umano, in particolare modo il filosofo, può rendersi conto di questo fondamento originario che sostanzialmente causa di dolore, ecco l'altro elemento pessimistico, diciamo così, della filosofia di Schopenhauer, la volontà, questa forza originaria, sostanzialmente opera allo scopo di riprodurre la vita, di riprodurre la vita incessantemente, ma la vita per Schopenhauer è dolore e di conseguenza l'opera della volontà non fa altro che riprodurre la sofferenza, riprodurre il dolore. Quindi abbiamo in Schopenhauer una identificazione della vita con il dolore. In questo senso la filosofia di Schopenhauer è stata accostata anche al pensiero, alla riflessione di un nostro grande intellettuale, cioè scrittore, poeta, e cioè a Giacomo Leopardi. Tanto è vero che Schopenhauer aveva una grande stima di Leopardi e si rivolgeva a lui in termini molto lusinghieri chiamandolo appunto quel grande italiano che sostanzialmente aveva capito tutto, aveva capito quello che per lui era appunto la verità e che soltanto la filosofia, la sua filosofia, aveva finalmente svelato all'essere umano. E cioè che la vita sostanzialmente è dolore, quindi non è che sia una grande verità, ma insomma Schopenhauer cerca di motivare questa sua affermazione attraverso la sua riflessione, attraverso le sue opere molto brillanti che naturalmente non ebbero molto successo in quel periodo, periodo in cui, diciamo così, vi era in Europa un certo ottimismo ben incarnato dalla filosofia dell'idealismo tedesco e in particolare da Hegel, ma che poi riscuoterà un certo successo dopo il 48, dopo la caduta delle illusioni rivoluzionarie di quelle illusioni che appunto avevano fatto sperare nella prima metà dell'Ottocento, anche dopo la rivoluzione francese, ad un rinnovamento del genere umano, ad un progresso dell'umanità. Dopo il 48, dopo il fallimento delle rivoluzioni, diciamo così, la filosofia pessimistica di Schopenhauer comincerà ad avere un certo successo, mentre prima egli non aveva avuto molti seguaci, neanche nel periodo in cui insegnerà l'Università di Berlino insieme ad Hegel che ricopriva un'altra cattedra. Ebbene, le lezioni di Schopenhauer erano frequentate da pochissimi studenti, mentre le lezioni di Hegel erano molto frequentate. Quindi ci sarà anche una certa rivalità tra i due filosofi. Schopenhauer avrà delle parole molto poco lusinghiere nei confronti del suo collega fino al punto addirittura di chiamarlo sicario della verità. Bene, ma ritorniamo al nostro discorso e cioè alla concezione che Schopenhauer ha della realtà, del fondamento della realtà come volontà. Ma che cos'è questa volontà? Che cosa intende Schopenhauer con questa parola? La volontà intanto per Schopenhauer è come dire è una forza c'è che è una forza primordiale. È ciò che sta alla base della vita, ciò che sta alla base diciamo così della molteplicità del mondo e di tutte quelle categorie attraverso le quali noi conosciamo noi stessi e le cose del mondo. quindi sta alla base del fenomeno sostanzialmente quindi è la volontà stessa che costituisce l'origine il fondamento della mondo come rappresentazione. Il mondo come rappresentazione non è altro che una appunto apparenza non è altro che una illusione ecco, questo è un altro punto in cui Schopenhauer si distingue da Kant per Kant il fenomeno non era illusorio diciamo così ma era semplicemente la modalità con la quale la realtà si dava al soggetto umano per Kant il fenomeno comunque sia ha una sua validità ha una sua sostanzialità non è una semplice illusione per Schopenhauer invece il fenomeno il mondo come rappresentazione la rappresentazione che diciamo attraverso la quale noi conosciamo il mondo e noi stessi come elemento di questa rappresentazione è qualche cosa di illusorio e a questo proposito Schopenhauer usa una bella immagine un'immagine piuttosto poetica tratta quindi dalla sua conoscenza del pensiero orientale e cioè usa l'espressione velo di Maya Maya è nel diciamo così il pantheon indiano una divinità che rappresenta il trasformarsi continuo delle cose il mutare continuo delle cose e che si presta quindi si prestava bene ad come dire ad illustrare con una immagine la illusorietà del mondo fenomenico la illusorietà della molteplicità nella quale noi stessi siamo in un certo senso avviluppati e che costituisce come dire il l'esplicarsi l'estrinsecarsi della volontà di vivere tuttavia ecco questo velo di Maya questo mondo come rappresentazione e non fa altro che celare la vera realtà e cioè non fa altro che celare quel fondamento quel principio originario quella forza primordiale che è appunto la volontà come possiamo come dire cercare di avvicinarci a questo concetto abbiamo detto che la volontà il fondamento del mondo fenomenico la vera realtà può essere compresa per Schopenhauer soltanto in via analogica cioè in via analogica se noi pensiamo alla nostra volontà individuale se noi pensiamo in modo particolare a tutti quei desideri a tutte quelle passioni a tutti quegli istinti che ribollono dentro di noi e che in un certo senso ci spingono a vivere a come dire ad afferrare il piacere quando possiamo afferrarlo a fuggire il dolore e quindi pensate per esempio agli impulsi sessuali che riproducono in tutti gli esseri viventi la vita e che costituiscono appunto un'immagine della volontà di vivere appunto del desiderio delle pulsioni che scaturiscono dal più profondo di ogni essere vivente compreso l'uomo e che per Schopenhauer costituiscono appunto una immagine una similitudine di quella che è appunto la volontà universale la volontà universale cioè il fondamento del mondo fenomenico con tutti i suoi esseri quindi sia gli esseri organici sia gli esseri inorganici questa forza è all'origine anche per esempio che so io è all'origine della formazione dei cristalli è all'origine allo sviluppo delle piante è all'origine della vita animale quindi è una forza primigenia che pervade in un certo senso la materia e che la indirizza a costruire a moltiplicarsi a soddisfare diciamo così le proprie pulsioni le proprie tendenze interne e sostanzialmente a conservarsi ecco possiamo anche parlare di istinto di conservazione di tenace tendenza di ogni essere a preservare se stesso anche anzi direi soprattutto a scapito di altri esseri viventi tant'è vero che Schopenhauer intende appunto la vita i fenomeni tutte le manifestazioni fenomeniche come una continua lotta una continua lotta in cui gli esseri cercano di come dire di affermare se stessi a danno di qualcun altro a questo proposito egli fa un esempio tratto dalle scienze naturali parla di una di un animale che era stato descritto proprio in quegli anni da naturalisti che avevano viaggiato in lungo e largo per il mondo e questo animale è la formica gigante d'Australia la formica gigante d'Australia che mostra uno spettacolo molto come dire curioso sorprendente e cioè se viene tagliata a metà le due metà lottano tra di loro fino a che entrambe muovono questa immagine della formica gigante d'Australia simboleggia molto bene per Schopenhauer la lotta incessante la lotta continua degli esseri viventi per affermarsi a scapito degli altri la lotta per l'esistenza possiamo dire qui abbiamo anche un po' una prefigurazione di quella ideologia nota come darwinismo sociale che si affermerà soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e che costituirà anche una giustificazione delle atrocità commesse dagli europei ai danni di altri popoli con il pretesto che appunto la vita è una lotta continua e che è quasi come dire un diritto naturale il fatto che il più forte abbia il sopravvento sul più debole dunque da una parte noi abbiamo questa volontà questo fondamento universale dall'altra abbiamo gli esseri la molteplicità degli esseri che costituiscono appunto il mondo come rappresentazione che diciamo così traggono il loro essere la loro energia il loro movimento appunto dalla spinta della volontà originaria ma come viene definita da Schopenhauer la volontà questo fondamento diciamo che non può a rigore non potrebbe essere definito proprio perché la volontà è prima anche di ogni definizione è prima degli esseri è prima quindi anche degli esseri umani viene prima anche del linguaggio che la descrive di conseguenza ecco definire la volontà si può fare ma sempre tenendo presente che la volontà è la condizione di tutta la realtà fenomenica e quindi è la condizione anche di quel linguaggio che essa dovrebbe descrivere ma insomma con questa con questa precauzione Schopenhauer dice che la volontà sostanzialmente è unica è unica perché la molteplicità è una conseguenza della volontà è la volontà che vuole che l'essere si scinda nella molteplicità degli esseri e affinché questi lottino tra di loro per affermarsi l'uno sull'altro per riprodursi incessantemente la volontà è volontà di vivere nel senso che è una volontà quasi animata da una sorta di perfidia perché in un certo senso accusiamo sempre questo linguaggio un po' inadeguato è come se la volontà volesse riprodurre il male come se la volontà diciamo così questo fondamento nel riprodurre la vita come dicevamo poc'anzi avesse una specie di intenzione malvagia che consiste proprio nel riprodurre al tempo stesso anche la sofferenza visto che Schopenhauer istituisce questa relazione tra vita e sofferenza naturalmente la volontà diciamo così non è consapevole di questo visto che è una forza primordiale che viene prima di ogni consapevolezza ecco la consapevolezza sarà il portato dell'evoluzione la consapevolezza apparterrà in modo particolare all'uomo e cioè al filosofo non tanto al genere umano ma il filosofo che riesce ad elevarsi al di sopra diciamo così della vita inconsapevole degli esseri vegetali e degli esseri animali e per questa ragione Schopenhauer dice che maggiore la consapevolezza e più grande la sofferenza la sofferenza dipende anche dal fatto che io sono consapevole del mio destino e per cui un grado maggiore di intelligenza costituisce anche una maggiore sensibilità e quindi una capacità di soffrire maggiore rispetto ad altri esseri animati che non hanno appunto la consapevolezza che ha l'uomo e ovviamente anche rispetto agli esseri inanimati la pietra non è consapevole la pietra non ha sensibilità quindi non possiamo dire che la pietra soffra anche se la pietra stessa come tutte le cose inanimate costituisce appunto una manifestazione della volontà di vivere una manifestazione fenomenica della volontà di vivere che si dà che si dà diciamo così come rappresentazione proprio agli esseri capaci di essere come dire capaci di sentire capaci di vedere capaci di annusare capaci di avere del mondo appunto una rappresentazione una forstella un forstella un signifio proprio ciò che è davanti a me e che io mi posso rappresentare dunque se per Schopenhauer la vita è dolore se la volontà in un certo senso è questa forza primordiale che da cui dipende la vita stessa la cui intenzione diciamo così è quella di riprodurre continuamente la vita molto interessante è anche ciò che Schopenhauer dice a proposito del sesso dei rapporti sessuali il sesso quindi costituisce appunto l'impulso sessuale costituisce lo strumento lo strumento attraverso cui la volontà riproduce la vita e dunque riproduce il dolore l'irresistibilità diciamo così l'impulso sessuale l'istinto sessuale è appunto una simboleggia molto bene questa come dire questa intenzione no questa forza no che irresistibile che in qualche modo tende a riprodurre come abbiamo detto più volte tende a riprodurre la sofferenza attraverso la riproduzione degli esseri viventi ho detto ciò diciamo così che Schopenhauer offre anche dei rimedi dei rimedi che non sono propriamente dei rimedi e se la vita è dolore si tratta di riflettere sul modo di evitare questo dolore naturalmente di fronte a un simile interrogativo come facciamo noi a liberarci del dolore verrebbe spontaneo dire ci liberiamo dal dolore nel momento in cui sopprimiamo la vita sopprimiamo la nostra vita cioè sembrerebbe che il suicidio sia un rimedio al dolore per Schopenhauer non è affatto così il suicidio non solo non è un rimedio al dolore ma è addirittura il segno che noi siamo schiavi della volontà non possiamo dire così molto semplicemente chi si suicida lo fa perché è troppo attaccato alla vita nel momento in cui la vita non è in grado di soddisfare i suoi desideri ecco che diciamo così come in una specie di rifiuto egli si toglie la vita perché non riesce a vivere pienamente non riesce a soddisfare i suoi desideri ma questo significa che egli è ancor più schiavo della volontà è ancor più schiavo della volontà di vivere proprio perché vorrebbe vivere come i suoi istinti i suoi desideri le sue ambizioni vorrebbero farlo vivere ma egli non è capace di ciò e quindi in un certo senso suicidandosi dimostra per Schopenhauer ancora di più il suo attaccamento alla vita dunque il suicidio è da escludere è da escludere come rimedio al dolore e rimedio al dolore per Schopenhauer sono diciamo così Schopenhauer indica tre vie Schopenhauer indica semplicemente tre vie non è detto che lui credesse nell'efficacia di queste vie soprattutto l'ultima via e queste vie sono la via dell'arte diciamo così la via della morale o della pietà o della compassione e infine la via dell'ascesi cosa significa cosa significa che attraverso l'arte noi in qualche modo superiamo il dolore perlomeno lo mettiamo tra parentesi ecco l'arte la musica in modo particolare ecco per Schopenhauer la musica è la forma più elevata di arte è quella forma di arte che ci mette direttamente in contatto con la volontà e quindi in qualche modo ci permette di disinnescare il potenziale di dolore della volontà di vivere diciamo molto semplicemente che l'arte costituisce un palliativo costituisce un rimedio provvisorio temporaneo al dolore dell'esistenza perché perché ci fa dimenticare noi stessi ci fa dimenticare per un breve un breve momento noi stessi ricordiamoci che la sofferenza dipende dalla consapevolezza che io ho di me stesso quindi quanto più un essere è consapevole di sé quanto più è intelligente quanto più diciamo così ha proprio la come dire la chiara visione della vita come sofferenza tanto più egli è esposto appunto alla sofferenza egli non sa farsi una ragione alla sofferenza e dunque dimenticare se stessi equivale in un certo senso ad interrompere questo flusso di dolore che invece la consapevolezza di noi stessi comporta e nell'arte accade questa sorta di miracolo pensate quando noi siamo immersi nella contemplazione di un'opera d'arte o quando siamo completamente presi da un brano musicale che ci piace in modo particolare è che in quel momento tutte le nostre passioni tutti i nostri desideri quindi tutta la nostra inquietudine sembrano svanire perché sostanzialmente noi non pensiamo a noi stessi quindi il fatto di dimenticarsi il fatto di mettere per un momento tra parentesi la nostra coscienza la nostra consapevolezza e quindi anche il nostro dolore la nostra sofferenza questo risultato che possiamo in qualche modo realizzare attraverso la contemplazione estetica la contemplazione dell'opera d'arte è per Schopenhauer una via provvisoria per Schopenhauer una specie di pausa dal dolore ricordiamo anche una famosa frase di Schopenhauer che riassume sinteticamente molto sinteticamente il suo pessimismo Schopenhauer diceva che la vita è come un pendolo che oscilla tra la noia e il dolore quindi quando noi non soffriamo ci annoiamo e quando ci annoiamo diciamo così non proviamo dei vivi dolori ma comunque sia anche la noia è una forma di dolore una forma di sofferenza ecco attraverso la contemplazione estetica la contemplazione artistica la noia e il dolore sembrano tacere per un momento e quindi noi come dire respiriamo abbiamo un momento di beatitudine nel senso che non soffriamo più non esiste per Schopenhauer la felicità esiste l'assenza di dolore quindi la felicità per Schopenhauer equivale all'assenza di dolore o all'assenza di noia tuttavia abbiamo detto che questa via è una via temporanea nei momenti in cui cessiamo smettiamo di guardare il quadro oppure la musica finisce ecco che noi ritorniamo noi stessi con tutte le preoccupazioni con tutti gli affanni con tutto il pungolo dei nostri desideri delle nostre voglie delle nostre ambizioni eccetera eccetera che appunto proprio perché il desiderio non è mai esauribile no soddisfatto un desiderio subito ne sorge un altro che ci pungola che ci inquieta eccetera eccetera ecco che si riproduce con il desiderio si riproduce anche il dolore non siamo mai soddisfatti di quello che abbiamo di quello che siamo e quindi questa insoddisfazione è quel pungolo quella sofferenza che dipende anche evidentemente dalla consapevolezza che abbiamo di noi stessi allora a questo punto Schopenhauer propone una seconda via e la seconda via ha a che fare con la morale ha a che fare con la compassione ha a che fare con diciamo così l'apertura agli altri no e in che senso allora questa compassione ci allevia le nostre sofferenze intanto la parola compassione significa soffrire insieme agli altri potremmo dire che non so potremmo metterlo in termini un po' banali dire malcomune mezzo d'audio quindi se io soffro insieme agli altri in un certo senso la mia sofferenza è in qualche modo alleviata dal fatto che non sono solo a soffrire ma c'è qualcuno che soffre insieme a me e quindi in un qualche modo in una qualche misura vi è appunto una certa consolazione in questo soffrire insieme agli altri ma ancora più attinente insomma a quello che stiamo dicendo è il fatto che attraverso l'agire con benevolenza nei confronti degli altri attraverso quindi l'azione morale e diciamo così è come se spezzassi quella rivalità che ho con tutti gli altri esseri viventi che ho con i miei simili che ho con la natura pensate all'uomo che appunto distrugge la natura per soddisfare i propri desideri smodati e che attraverso la compassione attraverso il rispetto attraverso la dimensione etica io metto un po' in difficoltà la volontà perché abbiamo visto che la volontà vuole che si litighi per dirla in termini semplici la volontà vuole metterci l'uno contro l'altro la volontà vuole che noi entriamo in competizione con gli altri con la natura per appropriarci di ciò che sembra in quel momento debba renderci felici appropriazione che poi sappiamo non ci renderà affatto felici perché appunto per ogni desiderio soddisfatto ce ne sono altri dieci che bussano dietro la porta e che quindi non verranno non verranno mai appagati o se verranno appagati questo appagamento non sarà mai definitivo e quindi ecco che attraverso la morale attraverso la morale io in un certo senso spesso no? spesso questa catena limito in qualche modo i miei desideri non faccio come la formica gigante d'Australia che continua a lottare con se stessa riconosco riconosco diciamo così il male che accomuna tutti gli esseri viventi riconosco appunto che siamo sostanzialmente nella stessa barca e che quindi la cosa più ragionevole da fare non è quella di come dire di farci del male no? nella illusione di poter in qualche modo soddisfare i nostri capricci i nostri desideri ma capisco che invece la via della fratellanza la via dell'etica la via del rispetto può in un certo senso spezzare no? questo gioco in cui la volontà ci ha messo di riprodurre la vita attraverso la competizione attraverso la sopraffazione e dunque attraverso questi mezzi riprodurre anche il dolore dunque la morale l'etica costituisce come dicevamo una specie di ancora una volta un palliativo una volta un rimedio non definitivo un rimedio non definitivo perché la volontà comunque non viene annullata non viene annullata il fatto che una persona si comporti moralmente non significa che poi per esempio non abbia il desiderio di riprodursi non abbia il desiderio di mettere al mondo dei figli e quindi in un certo senso nonostante che l'etica in qualche modo allevia sofferenza e non eliminando la vita non spezzando in maniera definitiva il legame che ci lega alla volontà e non sostanzialmente non è un rimedio definitivo a dolore la vita continua a riprodursi la volontà continua a fare il suo gioco e dunque il dolore in un certo senso continua a costituire un elemento determinante un elemento della vita di tutti gli esseri da cui non ci si può sottrarre attraverso l'etica attraverso la compassione e dunque non resta che la terza via la terza via che è quella dell'ascesi ma qui evidentemente Schopenhauer non non è in grado di giustificare in maniera come dire logicamente coerente questa sua affermazione probabilmente neanche lo voleva cioè l'ascesi non è altro che come dire una rinuncia una rinuncia al desiderio una rinuncia al desiderio è una specie di mortificazione degli istinti delle passioni la mortificazione della carne pensate agli asceti cristiani che rinunciavano a tutto andavano a vivere in solitudine nei loro eremi privandosi di ogni comodità allo scopo proprio di sopprimere in qualche modo il desiderio e quindi di sopprimere la volontà di vivere che è fonte di dolore naturalmente l'asceta cristiano lo fa in una prospettiva religiosa cioè questo suo ascetismo estremo era comunque finalizzato a soddisfare un altro desiderio il desiderio della vita eterna ma la vera ascesi non può essere subordinata a nessun desiderio e qui noi notiamo già una prima contraddizione allora a che scopo a che scopo praticare l'ascesi se non c'è appunto un obiettivo da realizzare evidentemente se io pratico l'ascesi radicale è perché voglio raggiungere qualche cosa e quindi dire che attraverso l'ascesi diciamo così si raggiunge una condizione di assoluta mancanza di desiderio in modo tale che la volontà di vivere viene definitivamente annullata ecco sembra un po' una contraddizione in termini ma tant'è ecco questa è più o meno insomma l'idea che Schopenhauer manifesta cioè l'ascesi l'ascesi diciamo così atea non l'ascesi religiosa che ha comunque sia un fine preciso l'ascesi deve portare all'annullamento definitivo della volontà di vivere deve portare a quella che Schopenhauer chiama la nulluntas cioè l'assenza della volontà diciamo così l'ascesi è il momento in cui io definitivamente annullo me stesso come un io singolo che desidera che soffre che patisce è un po' come una goccia che si disperde nell'oceano e in questo disperdersi in un certo senso anche il dolore viene meno anche la sofferenza e non c'è più non c'è più perché non ci sono io non c'è più l'io no concepito come un grumo di desideri di passioni di scopi da realizzare eccetera eccetera dunque Schopenhauer a un certo punto dice che se anche un solo essere vivente se anche un solo uomo riuscisse ad raggiungere la perfetta ascesi sparirebbe completamente il mondo perché sparirebbe il mondo sparirebbe tutto perché abbiamo detto all'inizio che il fondamento del mondo come rappresentazione è la volontà se io riesco ad uccidere la volontà che è unica non è molteplice se io riesco a come dire a far tacere in maniera definitiva la volontà che opera anche in me così come opera in tutta la molteplicità degli esseri ebbene io avrò con la volontà ucciso anche il mondo io avrò fatto sparire il mondo la molteplicità io avrò fatto sparire il dolore dal mondo ora dice Schopenhauer ciò che per noi che siamo attaccati alla vita che siamo ancora immersi nel fenomeno ciò che a noi sembra un annullamento sembra un annichilimento totale è da un punto di vista di colui che è riuscito in qualche modo a raggiungere la scesi perfetta questo nulla questa nulluntas invece equivale al tutto equivale a una pienezza inimmaginabile che noi non possiamo evidentemente immaginare proprio perché siamo ancora attaccati a questo mondo fenomenico a questo mondo del desiderio a questo mondo della sofferenza a questo mondo delle passioni che continuamente premono in noi senza trovare una una realizzazione definitiva ecco con questo concludiamo questo video su Schopenhauer nella speranza di essere strade di qualche aiuto agli studenti del liceo grazie a tutti